Le visite endocrinologiche si possono fare, ma solo quelle di controllo. Accade all'ospedale di Sulmona, dove nei giorni scorsi diversi utenti sono stati dirottati al nosocomio San Salvatore dell'Aquila per accedere alla prestazione sanitaria. La carenza di personale ha bloccato e rifatto tutte le prenotazioni per la prima visita di accertamento di un'eventuale patologia e ha costretto i pazienti a fare la spola da Sulmona al capoluogo di regione, con tanto di esposto depositato nella serie del Tribunale per i diritti del malato. Sono pervenute ai nostri sportelli diverse segnalazioni ed è emerso che è possibile prenotare solo una visita di controllo. È sicuramente un problema perché comporta lo spostamento della popolazione in un altro nosocomio, denuncia il coordinatore del Tribunale per i diritti del malato Katia Puglielli, lanciando l'allarme anche su un eventuale impoverimento del presidio ospedaliero di Sulmona. Questo è certamente un problema anche perché comporta lo spostamento tra l'altro della popolazione in un altro nosocomio. Questo perché nel momento in cui andiamo a prenotare, andiamo a effettuare una visita diciamo al San Salvatore dell'Aquila, poi con molta probabilità continueremo a farci seguire da questo dottore e magari andremo a fare poi agroaspirato o ecografia in un altro nosocomio, si da impoverire automaticamente l'ospedale di Sulmona. Quindi noi stiamo facendo richiesta all'Asla affinché provvede immediatamente ad effettuare un ulteriore potenziamento diciamo del personale perché attualmente abbiamo un solo personale. Quindi il potenziamento del personale si da garantire sia le prime visite che le visite di controllo. Un problema quello di endocrinologia che si va ad aggiungere alle lunghe liste d'attesa dovute per la maggior parte dei casi proprio alla carenza di personale o alle strumentazioni non disponibili.